Quando facevamo le prime trasmissioni in cui parlavamo di questo argomento chiamavamo anche gli esperti, giure e consul ma si può pedinare, non si può pedinare e c'erano anche esperti interisti che ci dicevano ma no, perché le società di investigazione privata lo fanno e quindi si può fare abbiamo scoperto stasera che non si può pedinare poi, la cosa che vorrei sapere, visto che adesso stasera Furini e Gianluca dicono ah ma noi accettiamo questa sentenza assolutamente a me interessa capire che vuol fare palazzo alla luce di questo io voglio di tutto capire perché il punto è la malità di trattamento loro avevano accettato i passaporti, loro accettano se dicono eh paghiamo, si paga, io pago, quanto ce l'ha pagato? 2 milioni, 2 milioni, 3 milioni ma io pago, basta che non mi toccate a livello sportivo perché questo è loro l'unico problema ma non essere toccati a livello sportivo allora scambiano, pagano, pagano, pagano ma non lo so che pagano allora prima di tutto, visto che loro accettano perché non accettate a questo punto di rinunciare una volta per tutte e alla presentazione e fateli processare fate processare anche su questa storia e quindi vi ricominciremo Non schialzatevi tutti che faccio malattie se sono tutte ricominciate.